Il volume di cui sono autore insieme al professore Enzo Poci è intitolato l'Unione Cooperativa dei Lavoratori di Mesagne è uno studio sulla storia di una società di mutuo soccorso sul nostro territorio. La società di mutuo soccorso, l'Unione dei Lavoratori infatti è nata nel 1902 e si è contraddistinta come uno dei primi esempi di organizzazione dei lavoratori per darsi un'assistenza pubblica che non fosse più quella della carità e della beneficenza. In pratica è come voler raccontare come eravamo quando il Werfer ancora non c'era. Agli inizi del Novecento infatti lo stato sociale era ancora lungi dal venire e le famiglie spesso quando erano colpite da una sventura o da una disgrazia si trovavano su una strada. Le società di mutuo soccorso intendevano porre rimedio a queste situazioni grazie allo spirito solidaristico che interveniva tra i lavoratori. Il volume oltre a tutto questo è anche un'occasione per fare un po' la storia del movimento dei lavoratori dalla fine dell'Ottocento fino al 1950 nella città di Mesagne. Come si sono mossi i primi rappresentanti politici che rappresentavano le classi lavoratrici, quelli che si ispiravano al partito socialista prima e al partito comunista dopo. Le battaglie che hanno condotte a favore del lavoro e per il progresso sociale. Si tratta di episodi di personaggi che sono stati ricoperti dall'oblio che invece è giusto riportare alla conoscenza di quanto più possibili cittadini del nostro territorio per capire da dove veniamo e quante battaglie si sono dovute fare per raggiungere lo standard di civiltà a cui noi oggi possiamo attingere.